Vibrano le corde dell'animo umano. Gavitello numero 1 Valle, Gavitello numero 2 Croce, Gavitello numero 3 Pilarella, Gavitello numero 4 Fortezza. Il cuore batte forte, il cuore batte forte. Sono partiti, sono partiti, sono partiti. E' il via, è il via autentico, vero, reale dell'ottantesima edizione del Paglio Marinano e l'Argentario. E' partito il Paglio, è partito il Paglio, è partito il Paglio e anche il cronometro. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Siamo alla prima virata, la prima virata, Valle in testa, Valle in testa, Valle in testa, Valle in testa. Carlo, sei senza parole, non ti avevo mai visto così, non ti avevo mai visto così. Valle, Gavitello 1 Croce, Gavitello 2 Pilarella, Gavitello 3 Fortezza, Gavitello 4 La Fortezza in testa, la Fortezza in testa. E' un Paglio immenso, è un Paglio immenso, è un Paglio meraviglioso. E diamo via, mamma mia che sta succedendo, mamma mia che sta succedendo agli 800 metri. Ora non stiamo mollando, vediamo qua in questa vasca. E' avanti, Valle è avanti. E comunque avanti è ancora in Valle. Siamo vicini, siamo vicini ai 1200, siamo vicini ai 1200, Valle è fortezza, Valle è fortezza, Valle in testa, Valle in testa. Sono lì, che Paglio fantastico, che Paglio fantastico. Ancora regna l'incertezza più assoluta, regna l'incertezza più assoluta. Davvero può succedere di tutto. Il Valle sta facendo qualcosa di impensabile, ma la Fortezza è lì, con gli artigli dei campioni. E poi i campioni della Pilarella, che mica vogliono mollare. Mica vogliono mollare quelli della Pilarella. Siamo a 1600 metri, 1600 metri, 1600 metri. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Siamo vicinissimi adesso ai 2000 metri, siamo vicinissimi ai 2000 metri. Ovvero a metà palio, metà palio di Marinaro e l'Argentario. Il Valle primo, il Valle primo, il Valle primo. Siamo ai 2400, 2400, 2400, 2400. Fortezza, fortezza, uguali. Prima fortezza, prima fortezza, prima fortezza, prima fortezza. Adesso in terra, adesso in terra ha girato prima la fortezza. Fario prima fortezza. Di pochissimo, di pochissimo. 2800 metri. Il Valle è ripassato avanti, il Valle è ripassato in avanti, il Valle è ripassato in avanti. 3200 metri, Valle in testa, Valle in testa, Valle in testa. E' qualcosa di epico, Valle in avanti, Valle in avanti, Valle in avanti. Vattesima edizione del palio Marinaro dell'Argentario, Ninarello in estasi. Vince il Valle, Vince il Valle, Vince il Valle, Vince il Valle. Valle, Vince il Valle, Valle campione, vittoria epica, vittoria epica, vittoria storica. Bianco celeste come il Valle e adesso ufficiale, ha vinto il Valle in un tribunio di folla, in un tribunio di urli, in un tribunio di giubilo, in un tribunio fantastico, fantastico, unico. Adesso c'è il bagno di folla, questo è l'autentico bagno di folla.